E ora in diretta dalla stazione di Brandizio, Elena. Buongiorno, i due superstiti hanno detto di non aver né visto né sentito il convoglio arrivare. Lo hanno raccontato ai sindaci di Chivasso e Brandizio che sono andati a trovarli in ospedale. Hanno detto di aver alzato semplicemente lo sguardo e essere stati abbagliati dai fari, aver fatto un balzo in avanti. Molti ancora particolari da chiarire. Il punto fondamentale è le mancanze di comunicazione, come abbiamo detto nel servizio. La polfer continua ad acquisire elementi. Abbiamo chiesto alla procuratrice quali saranno i prossimi passi dell'indagine. Vi aggiorneremo su questo. Nelle prossime edizioni ovviamente ha detto che le autopsie sui corpi è improbabile che vengano fatte. Ulteriori elementi non potranno arrivare da lì. Non verranno fatti perché da un lato è evidente la dinamica dell'incidente e anche per le condizioni. dei corpi. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni e la linea può tornare a voi.